Gentili telespettatori, buona giornata. Nuova mazzetta, come dicono in Puglia, nuova mazzetta sulle bollette. Ecco che cosa succederà a luglio. Nomisma prevede incrementi, pensate un po', del 17% sulle bollette della corrente elettrica e del 27% su quelle del gas. Cioè il 17%, il 27% su quello che è già aumentato del quadruplo. Spaventoso. Assolutamente spaventoso. Continua senza sosta l'aumento dei costi delle bollette di luce gas che dovrebbero raggiungere un nuovo picco a partire dal terzo trimestre del 2022. Di chi è la colpa di questo? Chi è la colpa? Chi è l'ore? La colpa non è di Draghi, non è di Conte. La colpa è loro e di tutti i governi che l'hanno preceduto negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni. Perché guardate gli altri paesi. La Francia ha le centrali nucleari, si fa l'energia elettrica da sola. Gli altri paesi estraggono il loro gas. Mentre noi abbiamo fermato le trivelle, no trivelle, i fenomeni dei grillini che non sanno neanche come si chiamano se si guardano allo specchio. No trivelle. Abbiamo fermato l'estrazione di gas che nell'anno 2000 si parlava di 20 miliardi di metri cubi all'anno. Oggi se ne estraggono due. Da 20 a 2. Capite? Che riduzione spaventosa. Quasi azzerata. Le centrali elettriche? Gli italiani hanno detto no. Nein. Raus. E così. Le centrali elettriche le fanno gli altri paesi intorno a noi. Così se succede qualcosa arriva ovviamente anche in Italia. Senza avere le centrali elettriche. Ecco. Una nazione libera da centrali elettriche. Gli italiani hanno detto no. No. E adesso è arrivato il conto. Avete voluto la bicicletta? Voi che avete una certa età che avete votato no al nucleare. Io credo di non averlo votato. Ecco. Voi siete corresponsabili di quello che succede adesso. Ecco. E' arrivato il conto. Pei conto se non occupo mio ziantunello. Ecco. E' arrivato il conto. E poi le paleoliche. Ma no. Ma che brutto quelle paleoliche. Deturpano l'ambiente. Il paesaggio. Io stavo giulazzando con l'aereo in questi giorni. E sono atterrato in Olanda. E guardando giù dal finestrino dell'aereo era pieno, pieno zeppo di paleoliche. Sapete quelle cose con l'elica pum 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 che girando? Girando le pale. Perché lì girano le pale. In Olanda girano le pale. E producono energia elettrica le paleoliche. Servono a quello. Voi volete dire che in Italia non ci sono posti dove mettere queste cose a far girare le pale? Ma com'è possibile? E' tutto protetto? L'Italia è tutta protetta. Non ci sono zone dove non passa nessuno che puoi mettere queste cose che fanno girare le pale e producono l'energia elettrica? No. Se tu la metti nascosta poi se ne accorgono gli alieni. Bene. Quindi l'aumento delle bollette è stato voluto dagli italiani e di quelli che hanno eletto nei governi degli ultimi trent'anni. Quindi che l'aumento delle bollette, non diciamo la cretinata che è colpa di Draghi, è colpa di tutti quelli che sono arrivati prima di lui e degli italiani che hanno votato i 5 Stelle che erano al no alle trivelle, quelli che hanno detto no al nucleare tanti anni fa, Insomma, non c'è un colpevole, sono gli italiani che hanno portato a questo. E adesso come se ne esce? Non se ne esce. Se l'energia la compri all'estero, quello è il prezzo. Se ti va bene, bene. Se no, quella è la bicicletta pedala. Quindi non andiamo a cercare le colpe a Tizio, Caio e Sempronio. La colpa è degli italiani. E adesso vi beccate un altro 17% per quanto riguarda la luce e un 27% in più sul gas. Ecco, questo porta luce e gas a farli diventare dei beni, dei servizi di lusso a 5 Stelle. Non del movimento 5 Stelle, ma dei beni e servizi a 5 Stelle. Quello che conviene fare è non utilizzare più il gas, se non per cucinare. Basta utilizzare il gas, vivere al buio, compratevi le candele al discount o nei negozi quelli di importazione che arrivano dalla Cina. Vi comprate le candele, vi accendete tutte le candele in casa. Tutte, insomma. Costano anche le candele. Una candela, andate in giro con il lumicino, con il vetro sopra. Così andate in giro come nei castelli del Medioevo con la candela. Ecco, questo bisogna fare. Perché la colpa non è di chissà chi. La colpa è nostra. Non avete voluto il nucleare e adesso sono cacchi i vostri. Non avete più voluto estrarre il gas. Che schifo estrarre il gas. Ma che schifezza estrarre il gas. Lo fanno in tutto il mondo, ma noi no. Noi lo compriamo. Noi mica ci sporchiamo le mani di estrarre il gas. Lo compriamo, no? E lo vendono. Lo compriamo. L'elettricità e la compriamo. Scusate, la compriamo. Stiamo lì a produrre elettricità. E che schifo. La compriamo, l'elettricità. Bene. I prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia. I principali alleati, partner della Nato. Ecco. Bene. Anche perché questi due paesi non avevano fatto delle riserve. Perché poi è veramente ridicolo. Un paese ridicolo, l'Italia. Se c'è spazio dove c'è uno spazio identificato come riserva di gas. Che cos'è la riserva? La riserva è una cosa che utilizzi quando c'è un problema. Quando finisce la benzina si entra in riserva. Immaginatevi se finite la benzina e non entrate in riserva perché è vuota. La riserva non entrava alla benzina quindi la riserva è vuota. Rimanete in autostrada dove è finita la benzina. Quindi l'Italia aveva spazio per riempirla chiamata riserva e non c'era niente, era vuota, non c'era nessuna riserva. Hanno cominciato a riempire queste riserve dal 24 febbraio. Io ho detto ma qui forse le cose si mettono male. Cominciamo a riempire le riserve. Quando poi la Russia ha scoperto che quei geni degli italiani avevano le riserve vuote che non erano riusciti neanche a riempirle dal 24 febbraio ad oggi. Neanche la metà, il 42%, quelli hanno chiuso i rubinetti del gas così le riserve non le riempite più. E a ottobre, settembre, ottobre noi vi chiudiamo tutto e voi siete proprio finiti. Ecco, questo chi dobbiamo ringraziare? Dobbiamo ringraziare quei fenomeni che stanno i migliori. Di chi è la colpa? Dei migliori di oggi. Non di 30 anni fa ma dei migliori di oggi. Arrivederci a tutti e grazie.